Ok, grazie. Ok, perfetto. Siamo tutti a posto. Pista aperta, tre minuti al via. Tre minuti al via. Verifica traspondere attivata. Teodoro, io attendo l'ok delle verifiche, mi fai sapere per la composizione della fila. Sì, non ti preoccupare. Ok, grazie. Due minuti al via. Grazie. 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 Un minuto al via. Grazie. 30 secondi al via. Rientrare. 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 Ricordo che a meno tre si lasciano i modelli, si parte col suono della trombo. Ok, portarsi in allineamento, portarsi in allineamento, forza. Si parte. Abbiamo con il numero uno Pierantoni Emiliano, pilota Martigiano. Per i meccanici, una volta lasciati i modelli, sparsi un passo indietro. Terza posizione a Lipardi, quarto a Todisco, quinto il nostro amico Urzicino, il Tassinaro. in sesta posizione con Ulzicino. Ok, attenzione. Passeranno i primi due. In questa semifinale è il migliore terzo. Il miglior terzo dipende dalle giri che fanno l'altra semifinale. 5, 4, 3, giù i modelli. Forza. Attenzione, recuperate questo modello, grazie. Problemi per la 6, Nicoluzzi. Attenzione da attraversare. Ok, vai. Teniamo d'occhio. Problemi per Urzicino. Occhio. Tranquilli, i primi giri. Prendiamo la posizione giusta. Prendiamo il tempo giusto. Conduce dopo un minuto e dodici secondi di gara. Moccia, Valerio. Seconda posizione per Pierantoni. Terza posizione per Alipardi. 2, 1, 3. Prendiamo il tempo. No non no no no. Algro. Seconda posizione per le regione. attenzione a quelle manovre ok vediamo Aliprandi che passa in seconda posizione Dani Di Piero Antoni condiziona sempre questa gara Moccia Valerio i modelli al controllo tecnico possono essere ritirati i modelli al controllo tecnico possono essere ritirati 20 minuti per le classifiche tutto ok ok grazie procedo grazie a tutti 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 cinque minuti e trenta di gara Moccia 21 giri Aliprandi 21 giri Pier Antoni 21 giri Quarta posizione per Ursicino 18 giri Quinto Todisco e sesto Coluzzi Denny sono tre scorsi sei minuti di sei minuti quattordici il termine e conduce la numero due di Moccia Valerio seguita dalla tre da Lipardi e dalla uno di Pier Antoni tutti con ventiquattro giri non le stiamo guardando però tratteniamoci un po' ora Grazie. 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 Ussicino 34 giri, quinto Coluzzi 22 giri. Grazie. 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 Gianluca, mi fai sapere, Gianluca? Teo, al termine di questa, siamo pronti. Ok. Ok. Sì. Allora, vi comunico che al termine di questa semifinale ci sarà una sospensione di dieci minuti. Dieci minuti. Ci sarà un piccolo break offerto dall'organizzazione. Ripeto, subito dopo questa semifinale ci sarà un break di dieci minuti. È una questione organizzativa. Unile d'organizzativa. Grazie. 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 Quattro minuti al termine. Grazie. 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 Tre minuti al termine. Grazie. 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 Due minuti al termine. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. 19 e 16, pochi secondi al termine, conduce a Moccia con 75 giri, seguito da Liprandi, 75 giri, terza posizione a Piero Antoni, 75, e quinta posizione, quarta posizione numero 5, Urzicino. 30 secondi al termine. Sesta posizione Coluzzi, quarta il tuo disco. 10 secondi al termine. Stop 1 Stop 5 Stop 2 Stop 3 Rientrare, rientrare. Giallu, siamo pronti? Gialluca? Ok, tutti i modelli al contatto.